Piacere Luigi delle Bicocche Questa manifestazione si è svolta mercoledì 14 novembre 2012 perché i politici italiani e quelli del resto del mondo vogliono togliere i fondi alle scuole pubbliche infatti alle 18 ore settimanali avrebbero proposto di passare a 24 nei giorni scorsi a Roma alcuni studenti insieme ai docenti hanno manifestato per mantenere il monte orario di figli ora sentiamo l'intervista di Piacereo Piterbi La manifestazione è stata fatta assieme per difendere la scuola pubblica che è sotto attacco è evidente che il progetto di far aumentare le ore dei professori da 18 a 24 in classe aveva un significato di ridimensionare il ruolo della scuola pubblica perché c'è un'attenzione accumulata nella società molte persone sono disperate ritengono che la rabbia e la disperazione sia l'unico metodo per comunicare il loro disagio ma è uno sbaglio la manifestazione è una forma di comunicazione delle proprie opinioni ed è un diritto di tutti i cittadini quindi dobbiamo farlo perché se non lo facciamo come tutti i diritti inutilizzati poi viene lasciato, viene tolto, viene eliminato non so quello che decideranno però so quello che penseranno penseranno che la scuola italiana è fatta di professori e studenti che non sono dei bamboccioni sono dei ragazzi che hanno delle loro idee e che hanno anche il coraggio di manifestarle in piazza sull'abatto di quello che ha riscontrato Pier Giorgio gli studenti insieme ai docenti e molti altri lavoratori fanno questa manifestazione per difendere i vostri diritti per avere un posto di lavoro, per avere un'intenzione voi che siete fiduciosi sulle vostre strutture dovete venire in piazza insieme ai manifestanti per difendere i vostri diritti, per dare un buon futuro ai vostri più siete in piazza a protestare, meglio è per tutti se riuscirete ad avere quello che vi spetta, il diritto, potrete vivere meglio io spero che i politici di tutto il mondo dopo che hanno visto la manifestazione ci ridiano indietro i nostri diritti, riconoscano il lavoro dei docenti e l'opportunità di avere un'istruzione adeguata, molti di voi, spettatori di questo spettacolo evidente, dicono che la manifestazione non serve a nulla, invece non è vero, perché la manifestazione è uno strumento di espressione per difendere i diritti dei cittadini, i politici vogliono aumentare le ore dei docenti e togliere i fondi alle scuole, perché vogliono rovinare i diritti del nuovo potere un altro motivo per che gli studenti e i lavoratori sono in strada è perché c'è la critica e i politici preferiscono salvarle i dati invece di sostenere le scuole in più, dopo la scuola c'è il lavoro nero, ossia senza contratto che provoca disoccupazione e criminalità inoltre si abbassano gli stipendi e stanno togliendo la pensione qualche giorno fa a Siena 180 persone hanno protestato per avere un posto di lavoro io spero comunque che quando avrete visto questo filmato vi schiererete dalla nostra parte ed affronterete con testa alta i problemi che ci riguardano questa mattina questa mattina è che ci riguardano la prima parte in a curfew oh god i was a prisoner too yeah could not recognize the faces standing over me We were all dressed in uniforms of brutality How many rivers do we have to cross Before we can talk to the boss All that we got did seem we have lost We must have really paid the cost That's why we gonna be burning and diluting tonight I say we gonna burn Burning and diluting tonight One more thing Burning more pollution tonight Burning more pollution tonight Stop them Give me the food and let me grow Let the rude men take a blow All them drugs gonna make you slow It's not the music of the ghetto Weeping and I'm wearing tonight Weeping and I'm wearing tonight Will you say change Weeping and I'm wearing tonight But change Give me the food and let me grow Let the rude men take a blow I say change I say fall and I'm wearing tonight Don't make you slow It's not the music of the ghetto We gonna be burning and diluting tonight Burning and I'm burning and I'm diluting tonight Save your faith alive Burning more pollution tonight Illusion Get out of here Burning more illusion tonight And you're in the wind You're in the wind And you're in the wind Grazie a tutti.